Esistono frequenze specifiche che curano specifici problemi? Buone vibrazioni a tutti! Se facciamo un po' di ricerche scopriamo che ci sono effettivamente delle informazioni le quali danno per scontato che ci siano delle frequenze specifiche per la cura di determinate patologie o addirittura che tali frequenze corrispondano a precisi organi del nostro corpo. In rete potete trovare delle vere e proprie tabelle che indicano tali frequenze che si dice corrispondano a precisi organi o apparati. Allora il problema che personalmente ho riscontrato quando ancora molti anni fa mi sono immerso in questo tipo di ricerca che al tempo che amai scopri il tuo suono è che tutta la realtà vibrante è in continuo movimento. Noi esseri umani con le nostre emozioni modifichiamo il nostro suono attimo dopo attimo, istante dopo istante. E questo, batate bene, vale anche per ogni nostro apparato, ogni nostro organo fino ad arrivare ad ogni nostra singola cellula. Quindi non solo il suono per esempio del mio cuore non è detto che abbia la stessa frequenza del cuore di un altro essere umano ma questo mio suono potrebbe addirittura modificare la sua stessa frequenza in base al momento che sto vivendo. Quindi il suono del mio cuore cambia in continuazione come per tutti gli altri organi ed apparati. Molti anni fa ho usato anche degli strumenti di rilevazione analogica molto interessanti come il teremin proprio appunto per questo studio sul scopri il tuo suono che avevo fatto. Il teremin è uno strumento musicale elettronico che non ha bisogno del contatto fisico dell'esecutore con lo strumento stesso. Lo progettò nel 1919 il fisico Leon Teremin e si basa su degli oscillatori che ve lo dico in parole povere producono il suono in base al campo d'onda prodotto dalle mani del musicista. Bene, ho collegato il Teremi a un oscilloscopio, a un frequenzimetro e altri macchinari con una particolare metodica di mia intuizione e ho testato un gruppo di persone trovando una precisa frequenza che era in totale armonia per ognuna di loro. Badate, sto proprio parlando di una precisa frequenza non di un sistema di intonazione o di accordatura. Beh, sono così riuscito ad ottenere una statistica matematica precisa dei vari suoni ed ho creato poi delle musiche specifiche basate proprio su questa media frequenziale che è risultata diversa chiaramente da persona a persona. Di conseguenza ho creato quindi dei cd corrispondenti ad ogni frequenza rilevata che poi ho consegnato ognuno alla persona di riferimento. Ogni persona doveva poi ascoltare i relativi cd per un periodo di tempo stabilito a scopo proprio riarmonizzante. Devo anche dire che con mia soddisfazione la cosa ha funzionato anche molto bene per qualche tempo ma poi tali frequenze non si sono più rivelate ottimali proprio perché come vi ho anticipato all'inizio di questo video nel frattempo la frequenza di ognuna di queste persone era cambiata e non entrava più in risonanza con le frequenze dei vari cd. Quello che invece dopo tanti anni di sperimentazione è risultato fino ad oggi vincente è proprio il basarsi non sulla frequenza del singolo, della singola persona o del singolo organo o del singolo apparato bensì su frequenze auree frequenze armoniche con la natura frequenze potremmo dire a grande spettro come avviene per esempio per l'intonazione con il là a 432 Hz che comunque vi ricordo è da usarsi non come risolutrice di tutti i problemi esistenti bensì come base naturale ed armonica su cui tessere il potere dell'intento creativo del compositore il compositore, il creativo si mette al servizio per guarire se stesso principalmente e di conseguenza per dare anche un'opportunità di armonizzazione a chiunque si metta in risonanza con queste frequenze beh questo modo di creare melodie ed armonie mi ha portato ad avere dei risultati spesso anche avballati dalla scienza ma quasi sempre sbalorditivi dal punto di vista empirico buone vibrazioni a tutti grazie a tutti